Il tema di questi giorni è la vaccinazione, voi vi siete schierati per la vaccinazione obbligatoria da parte di docenti e studenti, perché? Ma non è che ci siamo schierati, io faccio un discorso di logica se una persona rischia di infettare altre persone, delle due l'una o si vaccina oppure non può, cioè non deve stare a scuola e soprattutto parliamo di docenti, cioè secondo me è un atto di civiltà, di responsabilità non dovrebbe neanche essere il legislatore e obbligare una persona a vaccinarsi e dovrebbe essere la persona che si può, e se non proprio non vuole perché chiamiamo l'obiettore di coscienza, no vax, che so io benissimo, però non possono stare, l'abbiamo fatta anche per i medici mettiamo un medico in corsia solo per i medici fratta però l'abbiamo fatta per i medici, ma io penso che hanno più contatti i docenti dei medici va bene, ringraziamo figlio fratto grazie a voi grazie a voi